Ciao mio caro amico aspirante trader professionista e profittevole Oggi è martedì 28 gennaio 2020 Permetti di mostrare i tre profittevoli che ho fatto Durante l'apertura londinese sul crude oil Durante l'apertura pitusa sull'SPM500 Questo è il market profile ieri del crude oil L'abbiamo usato ma c'è una ribasso Ma vedi c'è un retangolo giallo a evidenziare il gap ancora aperto Durante la sessione asiatica Il range era dentro la sessione precedente In questo scenario non ci sono particolari livelli importanti Eccetto la valora low e la valora high di ieri La linea rossa e la linea blu Bene, in questo scenario ho posizionato 5 contratti pendenti short Perché? Perché praticamente Vedi questa candela a 5 minuti del footprint Non è altro che dopo l'apertura O meglio, 2 minuti prima dell'apertura Era entrato dentro la valora di ieri Quindi non ho fatto altro che unirmi a initiative selling back Cioè di nuovo verso la valo area Verso il centro del POC La linea rossa è la valo area di ieri Come vedi il mercato mi esegue i miei ordini Il mio target finale è sulla linea tratteggiata nera Che è il POC della sessione overnight Fammi ricontrollare, sì Che combaciava con la sessione pituta di ieri E il mio stop loss strutturale su crude oil Era sopra il massimo overnight Con 5 contratti E poi metto un target intermedio su questo livello Bene, dopo il mio ingresso Come vedi il mercato mi va Prima a target ogni 3 contratti Poi metto il mio stop a Berkima più 1 E poi lascio lì Vedi il market profile Dato proprio l'intuizione di questo trade back Di nuovo al centro Verso il POC E poi il mercato cosa fa? Non vuole accelerare le volatilità Allora io metto un target intermedio Sopra il WIWAP Vedi questa linea verde al WIWAP E il mercato mi prende questo quarto contratto Poi abbasso di nuovo il trading stop profit Ma poi purtroppo il mercato mi stoppa in trading stop profit E esco con 250 dollari profit Adesso ti mostro la situazione sull'SPM500 Prima dell'apertura di oggi pitusa E abbiamo avuto una giornata gap down Come ho visto anche su Q2 Il rettangolo già all'evidenza il gap è ancora aperto E il mercato è rimasto in questo range qua C'è la valore a high e la valore a low Durante la sessione asiatica Il mercato ha rotto su al massimo pitusa E durante la sessione londinese altrettanto In questo scenario il trade che era da fare È stato quello di posizionarmi pesantemente Con 10 contratti short Soprattutto perché abbiamo aperto come vedi Dentro il range pituta di ieri Quindi quando è così Io di solito raddoppio la mia size Da 5 contratti a 10 Con una destinazione non il POC E il POC di tutte e due le sessioni Sia overnight e di ieri Ma questa linea rossa è la valore a high di ieri Infatti il mercato Mi esegua il mio stop loss strutturale Solo al massimo overnight Fa subito un violento rally Ma poi come vedi intrappola tutti Il mercato intrappola tutti Ed ecco che il mercato comincia la sua discesa Verso questo punto calamita Che è il POC overnight e il POC di ieri Infatti il mercato viene violentamente a target E boom mi prende i miei target E questa è la mia sessione di oggi 1252 profitto Caramelo se anche te vuoi cambiare il tuo trading meglio Sai cosa fare Ci vediamo domani Ciao Ciao